10 febbraio 1890. Nasce a Mosca Boris Leonidovich Pasternak, poeta e scrittore, universalmente noto per il romanzo Il dottor Zivago. Il libro, che verrà poi tradotto in 29 lingue e venduto in milioni di copie, viene all'inizio osteggiato dalle autorità sovietiche per il suo contenuto critico nei confronti della rivoluzione di ottobre, causando enormi problemi e persecuzioni al suo autore. Il dottor Zivago vede la luce nel 1957 fuori dai confini sovietici, grazie alla casa editrice Feltrinelli. L'anno dopo, a Pasternak viene annunciato il premio Nobel per la letteratura, premio che l'autore sarà costretto a rifiutare per non rischiare l'espulsione dal suo paese, minacciata dal regime comunista sovietico. Muore in povertà nel 1960.